nuovo video e sono contentissima perché finalmente siamo arrivati nel mese di giugno siamo arrivati all'inizio di giugno sono contentissima e questo video devo dirvi che è un po' particolare perché voglio andare in vacanza sinceramente voglio andare in vacanza ho deciso di fare uscire questo video quindi mercoledì ma di fare una pausa perché il 5 finalmente vado in vacanza con mio marito fino al 19 quando sarò in vacanza sicuramente vi porterò con me sicuramente farò creerò dei bei video e tra l'altro se volete vedere qualcosa in particolare se volete che faccio un video su qualcosa in particolare un tema in particolare scrivetelo nei commenti scrivetelo così ne prenderò in considerazione sicuramente sapete che mi piace seguire i vostri consigli cercare anche di accontentarvi di realizzare le vostre curiosità e quindi quello che voglio dirvi è che quando sarò la sì farò le riprese sarò anche attiva su youtube su instagram scusate mi sarò attiva su instagram quindi se non mi seguite ancora su instagram seguitemi mi fa molto piacere mi trovate sempre con titti lifestyle e la potrete già vedere spiare un pochettino tutto ciò che sto facendo vedere un po come sono le gran canarie non sono mai andata non siamo mai andati e sono veramente molto curiosa di sapere di vedere come questo posto ho bisogno ho bisogno di una pausa da youtube quindi perché ho bisogno di sole riposo devo dire che anche in questo momento non so neanche dove sono non sono a casa mia l'appartamento l'abbiamo venduto il 31 abbiamo consegnato le chiavi il 31 maggio e adesso siamo in attesa di ricevere la casa il costruttore ci aveva detto che venerdì avrebbe messo il pavimento e invece siamo andati lunedì e non era arrivata neanche la marcia ho mostrato a lui tutta la mia sfiducia nella data che ci aveva detto che la metà di giugno o la fine di giugno alla casa avremmo avuto le chiavi ma come è possibile una cosa del genere non c'è il pavimento non ci sono i sanitari non ci sono le porte quello è una cosa che sinceramente per quanto mi riguarda lo possono fare anche una volta che saremo dentro perché comunque la porta principale quella dell'entrata c'è ma tutte le altre cose no ovviamente sono cose fondamentali e quindi in questo momento insomma un po così di attesa cogliamo l'occasione ci faremo una vacanza noel la lasceremo e in un posto bello tranquillo state tranquilli la nostra coniglietta è al sicuro e ne approfittiamo per fare questa queste due settimane di vacanze che sono veramente meritate perché sono arrivate tante cose tanti episodi quindi siamo veramente stanchi e bianchi quindi al prossimo video spero di essere abbronzata di essere ancora più carica e piena di energia quindi io vi saluto e ci vediamo subito dopo il 19 giugno con un nuovissimo video nel frattempo se non vi siete iscritti iscrivetevi al canale magari approfittatene per vedere video che non avete avuto il tempo di vedere e cercatemi su instagram e io vi auguro comunque anche a voi delle belle vacanze e ci vediamo subito dopo ripeto il 19 giugno ciao e poi tra l'altro sono contentissima anche perché questo giugno è anche il mio mese il 28 giugno è il mio compreanno e non so sinceramente se riuscirò avere il tempo per organizzare una festa non so dove starò quindi è uno dei miei mesi preferiti giugno il 28 giugno è il compleanno quindi vediamo un poco io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao